Partito Democratico che vive sicuramente una fase complicata. Ieri sera affollata assemblea al circolo di Talsano per i 330 lavoratori ex TCT del porto di Taranto con la presenza dell'onorevole Ubaldo Pagano, dei rappresentanti sindacali di categoria di CGL Cisle Will e una delegazione di lavoratori presenti anche il presidente del Partito Democratico Massimo Serio il consigliere provinciale Aurelio Marangella oggi a Bari nella regione Puglia una riunione organizzata dalla Task Force regionale per l'occupazione diretta da Leo Caroli su richiesta del presidente Michele Emiliano che segue con particolare attenzione il problema. Il dirigente provinciale Cosimo Borreccino Chiediamo innanzitutto al governo centrale di aumentare questa proroga che attualmente è solo di tre mesi e quindi il 31 marzo metterebbe per strada 330 lavoratori. Nello stesso tempo sollecitiamo l'autorità portuale ma soprattutto l'ufficio ZES della regione Puglia a continuare a seguire bene come è stato fatto sino ad ora la possibilità delle sei aziende che si insediano nel porto di Taranto grazie alla zona economica speciale per poter assorbire la stragrande maggioranza di questi lavoratori. E intanto in un'altra sezione del Partito Democratico, il circolo Volta, la raccolta di firme di sostegno al documento che chiede di ricostituire la maggioranza originaria di centro-sinistra ecosistema Taranto. Vogliamo chiedere al Partito Democratico e a tutte le forze progressiste di continuare l'esperienza dell'amministrazione Melucci. È una fase storica troppo importante per la nostra città. Non dobbiamo disperdere questo patrimonio costruito in questi anni di riconversione economica, di transizione ecologica in questa terra.